In una galassia di avventure, la principessa Leia non si farà intimidire. Darth Fener, solo tu potevi osare tanto. Parecchi segnali sono stati diretti a questa nave da spie e ribelli. Voglio sapere che fine hanno fatto i piani che vi hanno trasmesso. Non so neanche di che cosa parli. Sono un membro del senato imperiale e missione diplomatica ad Alderaan. Voi fate parte dell'alleanza ribelle, siete una traditrice. Portatela via! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS